la volpe e la cicogna la volpe e la cicogna erano buone amiche proprio buone amiche un giorno la volpe invitò la cicogna a pranzo e le servì della minestra in una scodella poco profonda la volpe mangiava facilmente ma la cicogna riusciva solo a bagnare la punta del lungo becco e dopo il pranzo era più affamata di prima la cicogna decisa a vendicarsi ebbe un'idea invitò la volpe a pranzo per il giovedì successivo quel giorno la cicogna servì il cibo in vasi lunghi e stretti così la volpe non riuscì a mangiare nulla mentre la cicogna si saziò a volontà la morale è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te a te